Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella tasca è di destra, far la docce invece è di sinistra. Un pacchetto di malborro è di destra, di contrabando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i fin che fanno oggi sono di destra, ci annoiano su ogni sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra?